Benvenuti a fame da leoni, oggi vi presenterò la quinta ricetta che è il mio cavallo di battaglia che sono tortini al cioccolato. Gli ingredienti della ricetta sono 200 g di zucchero, 125 g di farina, 200 g di burro, 4 uova interi, 4 suorli e 180 g di cioccolato. Per questa ricetta avrò bisogno sempre di due assistenti, però dato che Miriam è malata avrò con me Margherita e Simone. Guardate che bel pezzo di ragazzo, un bel manzo. Allora iniziamo, te Simone mi spacchi le uova e le metti nella cioccolata insieme ai 4 suorli. Mentre te Margherita prendi pure gli stampini che servono per... e imburrane uno solo, poi ci spiegherò il motivo. Vai Simone! Allora ti dico una volta, lo vedi come le ho fatte? Spaccalo sui bordi di tavolo, addio! Vai! Vai! Vai, vai, vai! Bravo! Si fa notte! Sì! Sì! Prendiamo le uova con i 4 suorli e ci mettiamo lo zucchero. Simone! Vai! Deve venire una crema... gialla notare il commento deve venire una crema gialla gialla adesso prendiamo il burro lo facciamo a pezzettini e lo mettiamo a sciogliere a bagnomaria insieme al cioccolato lo sai che c'è la più forza la minima? bene Simone ti dà un conflitto difficilissimo quello di sbucciare un mandarino Simone non mi puoi mangiare gli ingredienti? non ce n'ho più scusa ma sono a casa mia si va bene però tutti i grandi chef cucinano un ciabatte il cioccolato è ben fuso insieme al burro il cioccolato va versato insieme alle uova 3,2,1 3,2,1 via vai troppo si la farina così cucchiaio lo metti qui dentro la farina e può fare così bravo questa qua è la consistenza del tortino per la cottura dei tortini bisogna prendere degli stampini e imburrarli e metterli in forno a 240 gradi per dai 5 agli 8 minuti dipende dalla grandezza dello stampino è un effini il tortino e il cioccolato è finito però adesso per vedere se è andato tutto come deve andare va aperto e va visto se dentro il cuore è sciolto si va? si va? olè olè si fa così rossetto e cioccolato che non mangiarmi sarebbe un peccato per tanto ora di fuoco per si fa così si cuoce a fuoco lento mescolando con sentimento è un po' di fuoco lento si fa così ma non mi 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 Grazie a tutti.